Il solstizio, ora, darà l'avvio a tutto. Shell Danni del, 19 giugno 2012. Il solstizio, ora, darà l'avvio a tutto. Torniamo. Stiamo osservando le tessere finali del puzzle, che stanno per essere risolte da coloro che sono i nostri alleati terrestri. Attorno al vostro globo, un massiccio sforzo è ora in corso per completare i processi necessari per arrestare la vostra cabala oscura e i suoi numerosi collaboratori nei governi, nei maggiori settori bancari e in diverse multinazionali. Gli ordini preliminari per questi arresti di massa sono stati completati e ciò che rimane è di emettere i mandati legali per la loro detenzione. Essi si terranno in apposite strutture appositamente costruite. I nostri team di collegamento sono in contatto con i responsabili di queste attività e saranno loro, tra i vari gruppi, che dichiareranno formalmente la fine delle amministrazioni esecutive della maggior parte delle nazioni occidentali. I nuovi custodi hanno un compito enorme da eseguire in quella che è una finestra molto breve di azione. Tuttavia, questi sono tempi straordinari. Coloro che sono stati scelti per questa missione di vigilanza hanno da portare a termine il calendario, che va concluso rapidamente a fondo per mezzo di questi nuovi governi. Il loro lavoro preparerà la strada per tutto ciò che è da seguire. Le nostre forze olografiche, nel caso, sono pronte ad intervenire. Siamo sicuri, che sia bene avere a portata di mano un tale apparato di rinforzo ma non è realmente necessario. I militari delle nazioni, che sono da cambiare radicalmente, la polizia e le forze di sicurezza sono ritenuti più che adeguati per svolgere il compito di estromettere i loro rispettivi regimi dal potere. La stessa competenza si applicherà alle migliaia di ulteriori arresti che isoleranno i cabalisti oscuri dalle loro fonti di ricchezza e di potere. Deve essere una fine planetaria di un gruppo internazionale, che ha gestito il vostro mondo per quasi tredici millenni. Con questo atto unico, state per diventare liberi, sovrani e prosperi. Stiamo per supervisionare tutto questo, e poi, al momento opportuno, ci fermeremo e inizieremo un contatto più personale con voi. Molto sarà discusso tra noi. Questo è, dopo tutto, il tempo giusto prima di recarvi alla Terra Cava, dove ritornerete alla piena consapevolezza. La nostra missione congiunta inizia realmente in questo frangente divino. Resta ancora molto da compiere insieme, sia in questa galassia, che in questa regione della fisicità. Molto ci si aspetta da voi come popolo. Ora, nelle vostre fila ci sono alcuni dei migliori spiriti di questo sistema cosmico. Ognuno di loro è venuto qui volontariamente, per rendere possibile a voi l'adeguamento alle molte necessarie modifiche e modellarvi in una nuova società galattica. Questa rinnovata umanità della Terra sarà il cuore della vostra mutata nazione stellare e un primo essenziale requisito è un rapido avvento comune della grande diversità, che caratterizza la vostra globale collettività. Questa è una delle ragioni per cui tanti di voi sono venuti da tutta questa galassia ad incarnarsi nei vostri corpi presenti. State per integrare questi veicoli fisici nelle vostre complete essenze spirituali. Questa essenza contiene i messaggi speciali dal cielo, e vi guiderà nel formulare la vostra inedita realtà. Il piano del cielo comprende una vasta serie di interventi da intraprendere per la vostra prossima nazione stellare e questo per noi sottolinea ulteriormente il significato unico di portarvi alla straordinaria epoca di pace e di unità, che si sta diffondendo ora attraverso questa galassia. La nostra missione qui è dunque di vitale importanza per ciò che segue in questo sistema celeste. Letteralmente, gli occhi della Via Lattea sono su di voi. Il cielo ci assicura che gli enormi cambiamenti necessari sono ora in procinto di accadere e, di conseguenza, abbiamo incaricato la nostra squadra di primo contatto di contrastare le varie forme di manovre programmate dalla cabala, consentendo così e gli agenti della luce di emergere vittoriosi. Ciò costituirà la prima battuta di avvio per ancorare le nuove energie, che vi porteranno sulla soglia della piena consapevolezza. Molti esseri di alta natura spirituale si sono riuniti nel vostro mondo per creare le condizioni per il primo incontro e tutto ciò che è da conseguire. Stiamo usando il nostro vantaggio tecnologico per promuovere questo progetto e per garantire che questa mossa di apertura fondamentale sia conforme alla volontà del cielo. A tal fine, stiamo unendo le nostre risorse con i nostri cooperatori sul vostro pianeta perché è giunto il tempo su noi per il prossimo grande passo in avanti. Il solstizio detiene molte chiavi per quello che sta ora per accadere. Namaste, cari. Siamo i vostri maestri ascesi. L'umanità ha attraversato molti alti e bassi nei suoi tredici millenni di storia. I nostri antenati hanno attraversato tre età dell'oro, rassicurati dalla promessa di un eventuale ritorno al nostro pieno potenziale come esseri umani. Coloro che fatalmente hanno assunto il timone dopo la caduta di Atlantide, ci hanno negato queste gioie e brutalmente ci hanno puniti per i nostri atti di insubordinazione. Questi, che ora conosciamo come Anunnaki, se ne sono andati lasciando dietro di loro obbedienti esseri umani la cabala, la cui avversione per ciò che rappresentiamo è profondamente deplorevole. Siamo stati per lungo tempo in disaccordo spirituale con loro, ma tutto ciò sta ora per giungere ad una più positiva conclusione per l'intera umanità. Molto sta accadendo in segreto, che sta creando la vostra liberazione da questo ciclo apparentemente senza fine di sofferenza. Il cielo ha ascoltato le nostre parole ed ha apportato i mezzi per restituirci alle nostre sacre vie pienamente coscienti. È tempo ormai per tutti noi di gioire. Veniamo oggi sulle ali di questo trionfo per darvi un meraviglioso messaggio di speranza, di verità e di delizia. Il vostro mondo sta cambiando per il meglio. Coloro che hanno a lungo agevolato un mondo di sofferenza e di elitarismo hanno incontrato la disfatta. Quei nostri alleati che hanno lavorato così duramente per portare le nostre benedizioni al vostro pianeta hanno finalmente raggiunto un accordo con coloro che attualmente detengono le redini del potere. Questo documento sancisce la loro partenza e permette il sorgere di una nuova realtà intorno a noi con il suo amore, la sua pace, la sovranità, la prosperità e, soprattutto, la vostra libertà. Ringraziamo i grandi del cielo, quelli che sono venuti da lontano e coloro che hanno trattenuto la sacra fiamma nel profondo delle meraviglie di questo mondo più bello. Una nuova via è ora in movimento, che ci restituirà il nostro stato naturale di piena coscienza. Ci rallegriamo e suoniamo le trombe del cielo per chiamare al trono della libertà e al tempio delle nostre gioie e dei nostri sogni. Abbiamo aspettato a lungo per questo momento divino. Cerchiamo solo le benedizioni e i decreti del cielo e le energie giubilanti di Lord Surrea il Cristo, N.D.T. Veniamo in questo modo ad insegnare e a guidare voi nelle vie superiori a mettervi al corrente delle responsabilità di coloro che sono co-creatori della fisicità. Venite, bene amati. Siate nella gioia, e andate prima di tutto a mostrare il vostro apprezzamento per coloro che hanno assicurato la vostra libertà e restituito a voi la vostra sovranità divina. È ora di comprendere che non siete mai stati soli, e che il cielo non vi ha mai abbandonato alle forze delle tenebre. Al contrario, voi avete un destino sacro. E il giusto tempo divino è arrivato per realizzarlo. Abbiamo mantenuto viva questa luce sul vostro mondo, e la ridoniamo con il più profondo amore a tutti voi. Oggi, in esultanza vi trasmettiamo ciò che sta accadendo sulla vostra terra. Molti di noi sono venuti a salvarvi dal buio per ritornare alla luce. Questo processo di primo contatto è anche quello di trasformarvi in esseri di luce pienamente consapevoli. Molto vi sarà rivelato, e molto ci si aspetta da ciascuno di voi. Sappiate, carissimi, che l'illimitata e infinita abbondanza del cielo vi appartiene. Così sia. Selamat Gaiun. Selamatia. Traduzione Sebir Blue Blogspot